benvenuti a tutti anche oggi cari amici nel mio canale oggi per voi attività creativa ho pensato di creare questo bellissimo biglietto 3d mille osi davvero semplice da realizzare riuscirete davvero a stupire chi lo riceverà vi lascio al tutorial per vedere come andare a creare in maniera semplice questo bellissimo biglietto buona visione in maniera semplice in maniera semplice in maniera semplice in maniera semplice un'altra in maniera semplice 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se l'idea ti è piaciuta ti invito a lasciare un bel like, se è la prima volta che passi da qui ti invito ad iscriverti al mio canale perché ogni settimana ci sono sempre video nuovi e condividerlo con chi ti fa piacere. Da di tutto e di più è tutto e vi aspetto presto al prossimo video. Ciao a tutti!